cari cari amici del web buongiorno cari amici del web io sono l'ombra di Hans Christian Andersen il danese che ha inventato le più belle fiabe che ci siano al mondo ve le ricordate le fiabe le mie fiabe qualcuna l'intrepido soldatino di stagno la piccola fiammiferaia la principessa sul pisello la sirenetta la sirenetta c'è pure il monumento a copenhagen e perché vengo qua sul web a proposito di Valeria Marini perché il mio amico il mio coetaneo io so danese lui era tedesco ma siamo vissuti nello stesso periodo Arthur Schopenhauer un grande uomo è già intervenuto a proposito di Valeria Marini e ne ha dette peste e corna perché ma perché Arthur Schopenhauer ha detto peste e corna di Valeria Marini e ha detto tra l'altro una cosa che mi ha colpito profondamente ha detto pure Schopenhauer che Valeria Marini ha le caviglie un po' grosse e quindi Schopenhauer non capisce non capisce il mio amico Schopenhauer che sta qui con me nel mondo delle ombre non capisce per quale motivo un editore italiano da quattro soldi è andato a pubblicare un libro di Valeria Marini intitolato lezioni intime con dentro pure un inserto chiuso chiuso vietato ai minorenni pensate voi che editore che è questo Schopenhauer che ha detto si è scatenato andatevelo a vedere il video e io me lo so goduto il video il video è intitolato Valeria Marini e Schopenhauer andatevelo a vedere io continuo a rivedermelo però voglio intervenire pure io e vi spiego perché su Valeria Marini vi spiego perché io ero brutto 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 come la fame però ero molto sensibile e purtroppo io con una donna brutta non ero disposto ad andarci preferivo vivere da solo e le donne belle con me non venivano allora nella mia cerchia familiare hanno cercato di aiutarmi e siccome in casa avevamo una domestica una domestica una bella una bella danese bella bella danese bella ben messa però che aveva due caviglie così era la nostra domestica bella ma con due caviglie così e avevano combinato che noi potevamo sposarsi io quando ho saputo che mi dovevo sposare io ero brutto però avevo un animo sensibile che mi dovevo sposare con quella bella bella danese però che c'erano due caviglie così mi sono presi gli incubi e me la sognavo pure di notte le mie fiabe cari amici sono nate tutte dai miei sogni notturni perché poi è arrivato Freud e ha spiegato che cos'è l'inconscio eccetera e che è successo e che cosa succede che io continuavo a sognarmi questa donna bella ragazza proprio due caviglie così continuavo a sognarmela di notte erano gli incubi per cui lavorando sopra questi incubi ho creato forse la mia fiabe più bella la sirenetta sapete la sirenetta che era quella dolce fanciulla che usciva dal mare bella bella fino all'ombelico però dall'ombelico in giù era un pesce avevo trasformato le caviglie delle caviglie di questa cara domestica nella coda del pesce è andata così la sirenetta perché vedete io benché fossi brutto 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 come la fame avevo un animo sensibile e avevo già diviso le donne in due categorie le donne che hanno le caviglie che so proprio come la Valeria Marini e come quella domestica che stava in casa mia in casa nostra e le donne che non hanno le caviglie io le avevo diviso in due categorie le donne con le caviglie alla Valeria Marini e le donne senza caviglie io le donne che avevano le caviglie sottili le chiamavo le donne senza caviglie e sono fatto così ero un creativo e la mia fiaba più bella è proprio la sirenetta è proprio la sirenetta allora io so tante cose di Valeria Marini per esempio per esempio lei era riuscita Valeria Marini ad abbindonare un grande produttore fiorettino mi pare che si chiami Cecchigori l'aveva abbindonato però si vede che pure Cecchigori anche se ha tante vicissitudini giudiziarie però deve avere Cecchigori l'animo sensibile come il mio perché a un certo punto anche lui gli hanno fatto impressione le caviglie della Marini perché avrà detto se questa c'ha due caviglie così alla sua età ma quando ce ne avrà 50 o 60 di anni che cosa c'ha? cosa c'ha? che mi tengo in casa un elefante? e allora Cecchigori ha fatto bene a mollarla a mollarla nell'ambiente in cui si trova lui ne trova le donne senza caviglie immaginiamoci con tutti i soldi che ha perché poi le sue disavventure finiscono va bene cari io ho voluto intervenire intervenire a supporto del mio amico Schopenhauer che sta qua giù che sta qua giù con me nel mondo delle ombre per dire la mia su Valeria Marini e sul fatto che un editore un editore da quattro soldi sia andato a pubblicare per facquatrini perché venderebbero pure la loro anima gli editori per facquatrini sia andato a pubblicare un libro un libro 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 di Valeria Marini titolato lezioni intime lezioni intime come se fosse stata appunto la Lola Lopez di cui parla Arturo Schopenhauer che si era fatta tutti i sovrani i principi i marchesi i conti i duchi europei e Valeria Marini che cosa potrà mai raccontare perché con quelle due caviglie lì non è che avrà avuto tante esperienze come la Lola Montes di cui parla Arturo Schopenhauer cari vi ho detto la mia vi ho detto come sono sempre nate le mie fiabe specialmente come è nata la sirenetta la sirenetta e ho detto la mia sono contento anche perché così ho rafforzato il teorema il teorema accusatorio del mio collega del mio collega mio caro amico Arturo Schopenhauer bene vi saluto il vostro Hans Christian Andersen se ne ritorna nel mondo delle ombre dove sta Benone